Benvenuti a Gossip Italia TV. Alfonso Signorini svela il ripescato per la finale del grande fratello Giuseppe o Anita. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale per non perderti tutte le novità.Ci. Allacciate le cinture, siamo pronti a decollare. Nel cuore del grande fratello, un'atmosfera carica di suspense e aspettative si diffonde tra gli inquilini, mentre il pubblico attende ansiosamente l'imminente finale. Tuttavia, proprio quando sembra che tutto sia stato svelato, una notizia sorprendente fa breccia nel mondo dello spettacolo. La possibilità di un clamoroso ripescaggio di un ex concorrente proprio all'ultimo momento, con l'intento di scuotere gli equilibri consolidati e generare nuovi colpi di scena. Sebbene ancora nessuna comunicazione ufficiale sia stata emessa da parte della produzione, Il solo pensiero di questa possibilità ha acceso i riflettori su ciò che potrebbe accadere nella casa più famosa d'Italia. Nel frattempo, tra gli inquilini rimasti, il clima è carico di emozioni contrastanti e tensioni latenti. Josh Rossetti, il fratello di Greta, ha fatto una rivelazione che ha destato scalpore, ha dichiarato apertamente il suo sostegno a Perla, nel caso in cui la sorella non dovesse arrivare in finale. Questa dimostrazione di solidarietà tra i concorrenti, nonostante le vicissitudini e le rivalità del gioco, ha toccato il cuore del pubblico e ha reso ancora più avvincente la trama del reality. Nel mentre, le relazioni all'interno della casa continuano a evolversi e a intrecciarsi in modi imprevedibili. Mentre la coppia Greta e Perla rafforza sempre più i loro legami, altri inquilini si trovano a fare i conti con i propri sentimenti e a riflettere sulle proprie esperienze nel corso del gioco. In un momento di profonda introspezione, gli abitanti della casa hanno avuto l'opportunità di condividere pensieri e sentimenti attraverso dei palloncini, contenenti messaggi sinceri che sono stati poi liberati nel cielo di Roma, come simbolo di speranza e rinnovamento. Intanto, Letizia, una delle concorrenti più amate dal pubblico, si confronta con la prospettiva di lasciare la casa e di affrontare la realtà al di fuori delle mura protette del grande fratello. Condividendo le proprie paure e speranze con gli altri inquilini, Letizia dimostra coraggio e determinazione nel fronteggiare un futuro incerto, mantenendo viva la fiamma del suo amore per Paolo nonostante le sfide che li attendono al di fuori della casa. Così, mentre il finale si avvicina, la casa del grande fratello continua a essere il palcoscenico di emozioni autentiche e di crescita personale per i suoi inquilini. Ogni giorno è una nuova sfida, un nuovo capitolo nella storia di coloro che hanno scelto di mettersi alla prova sotto i riflettori della celebre trasmissione televisiva. E mentre il mondo esterno osserva con trepidazione, gli abitanti della casa si preparano a concludere il loro lungo viaggio, consapevoli che, anche una volta terminata l'avventura, il loro legame indissolubile resterà per sempre inciso nei ricordi e nei cuori di chi ha seguito con passione le loro gesta. Grazie per averci seguito fino alla fine. Diccila tua nei commenti. Se hai apprezzato questo video e desideri rimanere aggiornato sulle ultime notizie nel mondo del gossip, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non perderti neanche un aggiornamento. Ci vediamo nel prossimo video.